Ciao, sono Francesca Pasinetti, ho 24 anni e sono l'assistente della squadra di ritmica dal 2009. Ho fatto parte anch'io da questa squadra dal 2001 al dicembre 2007, partecipando a due campionati europei, nel 2003 a Brema e nel 2006 a Mosca e nel 2003 al mondiale di qualificazione olimpica a Budapest. Faccio parte come alcune ragazze dell'arma dell'aeronautica militare e sono a Viere Capo.